Ha dato una mazzata al nostro paese, al nostro territorio, è un colpo al cuore. L'avvertenza dell'ortofrutticola del Mugello va oltre. La mera e drammatica volontà di delocalizzare lo stabilimento significa annientare un pezzo di territorio e cancellare in un attimo la sua storia legata da sempre alle castagne che l'ortofrutticola appunto trasformava in marron glacé nelle scorse ore. La Italcanditi di Bergamo ha deciso di accentrare la produzione in Lombardia non volendo riaprire i cancelli dopo le consuete ferie natalizie. È stato già convocato un tavolo di crisi regionale che si sono mossi immediatamente e si vedrà il 3 di gennaio e da lì vedremo quali saranno le soluzioni, le possibili soluzioni, uno stabilimento che vede l'80% di occupazione femminile. Dobbiamo digerire la cosa ancora. Non sappiamo cosa succederà. Questa è la nostra azienda, da 35 anni, 36, dovrei andare a Bergamo ma non credo proprio di poterci andare. Ho 56 anni e non me la sento proprio di lasciare questa azienda che è la mia vita ed è l'economia di questo paese. Ora noi faremo tutto il possibile perché penso che sia una decisione che loro avevano già preso da tempo e che hanno messo in atto solo ora. Però a casa fare la casalinga come ci hanno suggerito da Bergamo ma ci sono tanti giovani che avrebbero potuto comunque portare avanti questa tradizione. Un'azienda fondamentale per l'agricoltura, chi ha i castagneti, portava i marroni qua e da qui partivano per tutto il mondo ad un prezzo sostenibile. L'ordo frutticolo era il cuore di un sistema castagno che da 40 anni a questa parte si è cercato di valorizzare, di portarlo a livelli di eccellenza, di farlo conoscere nel mondo. Portava in Giappone, in Francia. Il 30% del prodotto che produco viene a finire qui. Poi qui prendevano un po' tutto il marrone, prendevano i baccati, prendevano quello che avevi, ti pagavano in base al prodotto. e in molte donne che lavorano come stagionali hanno appreso la notizia dai social. Noi sui social. Io da persona giovane resto scioccata. Levare il lavoro così resto scioccata.